Dopo lo spaventoso incendio alla ex-tab di Foiano della Chiana, si torna piano piano alla normalità. Il sindaco Francesco Sonnati ha emesso l'ordinanza con la quale revoca il divieto di consumo di ortaggi e frutta nel raggio di un chilometro dalla fabbrica che prese fuoco lo scorso 5 aprile. Il divieto era stato emesso subito dopo lo spaventoso incendio che aveva sostanzialmente mandato in fumo box doccia ready per il bagno e quel che è peggio era crollata anche una parte del tetto in Eternit. È stata la ASL Toscana del Sud a comunicare al comune di Foiano i risultati delle analisi effettuate sui campioni di vegetali prelevati nelle vicinanze della ex-fabbrica. I valori riscontrati, leggiamo testualmente, per le diossine, gli idrocarburi policiclici aromatici, IPA, i policlorobifenili, BCC e le fibre di amianto sono inferiori ai limiti di riferimento relativi agli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia. Per questo frutta, verdure, ortaggi ed altri prodotti agricoli di qualsiasi genere coltivati nel raggio di un chilometro dal luogo dell'incendio possono essere consumati, previo, leggiamo ancora, un accurato lavaggio dei vegetali prima del consumo.